Il fuoco a Trapani torna a far paura dopo un periodo di quiete, ma forse solo apparente. Un incendio la scorsa notte ha devastato il Cristo Pub e il Beautiful Bistrò di Via Villa Rosina, angolo Via Le Marche. Le fiamme hanno divorato mobili e suppellettili del locale, che era chiuso per le restrizioni anti-Covid, ma prossimo alla riapertura. D'anni incendi, scattato all'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Sulla matrice del ruoco i pompieri non si sbilanciano in attesa dei risultati dei riscontri scientifici. Gli investigatori però non escludono la natura dolosa. Anzi, sarebbe proprio questa la pista privilegiata dai militari dell'arma, chiamata a far luce su una vicenda ancora tutta da decifrare. Il Ristopab è stato sottoposto a sequestro. Qualche elemento in più i carabinieri potrebbero averlo per indirizzare le indagini sul binario giusto, non appena visioneranno le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di cui è dotato il Ristopab. Per il momento, una sola certezza, il fuoco in città torna a far paura, soprattutto ai commercianti vittime designati di avvertimenti compiuti con la subita strategia del fuoco per terrorizzare i destinatari del messaggio.